Convocato il Consiglio Comunale di Torre del Greco. La riunione in seduta ordinaria è in programma per stasera, martedì 23 febbraio, alle 19 e nel caso occorrisse alle 19.30 di domani. A causa dell'emergenza pandemica il Consiglio Comunale non potrà essere pubblico, ma la pubblicità sarà comunque garantita a mezzo social. Dall'ordine del giorno emergono alcuni punti di discussione essenziali per la città del Corallo. In primis la vertenza dello Stadio Liguori, in particolare la redazione di un bando per l'affidamento del centro sportivo cittadino. Importanti anche le emozioni presentate dai consiglieri pentastellati Borriello e Salerno, circa le problematiche del trasporto pubblico cittadino fornito da Eav, quelle dell'edilizia scolastica, in particolare l'inesistenza di accessi per i disabili in alcuni plessi, e legate all'edilizia cittadina. Interrogazioni dei due consiglieri anche riguardo allo stato di degrado in cui versa l'area mercatale di via circonvallazione e sul trattamento dei rifiuti speciali conferiti dalle famiglie in quarantena. Non figura invece tra i temi da affrontare la risposta all'interrogazione consigliare proposta dal consigliere comunale Luigi Caldarola riguardo a un presunto conflitto di interessi del neossessore alle politiche sociali Maria Pirozzi. Negli ultimi giorni il consigliere ha anche inoltrato un sollecito per ottenere, come disposto dalla legge, un qualunque tipo di chiarimento o di risposta da parte dell'amministrazione Palomba.